Grazie Presidente, molto meno di tre minuti. Solo per confermare il voto favorevole del Movimento 5 Stelle con la promessa di avviare già dai prossimi giorni l'incontro e il confronto con i dirigenti scolastici in modo da arrivare al 2020, il momento in cui dovrebbe essere dismesso completamente il servizio in autogestione nel migliore dei modi e con un impegno da parte di questa maggioranza sollecitare la Giunta a che i servizi ritornino alle scuole in tutto il territorio dei singoli municipi in modo da garantire uniformità a tutti i cittadini perché le cifre risparmiate devono essere assolutamente tradotte e ridate ai cittadini, ai cittadini che pagano le tasse come è stato più volte ricordato e quindi il risparmio delle scuole deve essere reinvestito nelle scuole. Grazie.